Siamo nella recente area giochi di via Tintoretto, via Comerio, nella frazione di San Lorenzo. Per quest'area l'amministrazione comunale ha deciso di investire delle somme per realizzare i parchi gioco inclusivi. Un progetto promosso da Regione Lombardia dall'assessorato dei Bolognini, la realizzazione di nuove aree gioco dedicate anche ai bambini meno fortunati, per permettere anche a loro di integrarsi sempre meglio nella pratica del gioco con gli altri loro coetanei. Quest'area è nata inizialmente come un'area per un percorso giochi, percorso vita dedicato ai bambini, che poi man mano si è sempre più implementata, con maggiori strutture dedicate proprio ai bambini e alle famiglie. Bene, questo è un progetto che l'amministrazione comunale sta portando avanti da ormai cinque anni, che è il parco gioco per tutti, che sono proprio quelle aree dedicate all'attività ludica per i bambini e anche per i meno fortunati. In quest'ottica l'amministrazione comunale, con l'ultima variazione di bilancio, ha deciso di stanziare ulteriori 50.000 euro per il completamento di aree gioco su tutto il territorio comunale, più altri 50.000 euro per nuove attrezzature gioco all'interno delle scuole e ulteriori 50.000 euro per il completamento di filari di alberatura verde lungo le strade. A presto con altre novità. Grazie.